E si torna a vincere nel fantacalcio, una bella vittoria, sfruttando devo dire anche Fiorentina-Inter, vi ricordo che abbiamo optato per il 6 politico come credo sia giusto fare E quindi ho sfruttato questa cosa perché lui aveva veramente un sacco di giocatori di Fiorentina-Inter, penso 6-7, quindi mi è andata bene perché ovviamente su 6-7 giocatori titolari qualcuno poteva fare anche qualche bonus Però ho fatto anche bene con questo 74, lui 67 con anche il 0-5 di modificatore difesa, Sommer gli ha preso 6, Bigiol non ha giocato ma è entrato Emerson Royale 6,5, forse primo 6,5 della storia di Emerson Royale col Milan Colasin ha accamonito 5,5 e poi una sfilza di 6 politici, Acerbi, Dumfries, Ederson non politico perché ha giocato a Roma, Frattesi, Colpani, Gudmundson e poi 7 di Leao e 5,5 di Lukman Come dicevo io un onesto 74, mi reputo soddisfatto, in porta non ha giocato Di Gregorio e un po' lo sospettavo ma è entrato per Inca, ha preso 5, dall'altro gol preso al 93esimo, se no mi aveva fatto porta inviolata però, amen Bastoni 6, anche lui 6 politico, 5,5 Valeri, 6 Alberto Moreno e 6,5 Dorgo che comunque il suolo fa sempre, non benissimo però una difesa che mi ha portato 0-5 in più A centro campo me la trascina Orsolini, gole assist, 11,5, contentissimo per lui, 6 politico di Barella, 6 anche di Strefezze di Tovenna, davanti segna il Pinamonti 10 e poi Bonni abbastanza male 5 con l'ammunizione Però, devo dire, ripeto, contento, non è sta vittoria e la classifica a questo punto è ancora molto molto corta perché ovviamente il settimo posto dista poco dalle prime posizioni e adesso ci saranno anche tanti scontri diretti, scontri comunque che potrebbero cambiare le sorti di questa classifica in poco tempo, da una giornata all'altra Andiamo adesso in serie B, vediamo un po', io non ho visto cosa ho fatto perché lo scopro sempre quando faccio il video cosa ho fatto in serie B, il fantacalcio giustamente lo so, ho fatto 148 punti questa giornata Devo dire, non male, non male 148 punti, non male Ho preso la Cremonese perché io ho puntato su Stroop col Sutirol, Cremonese che ha vinto 4-0, quindi andata bene, 24 punti Poi non benissimo in difesa, l'unico Pieragnolo che ha fatto un discreto punteggio, gli altri nulla di che Anche a centrocampo in realtà, forse solo Palumbo ha fatto qualcosina, ha preso un punteggio discreto Davanti non male, Tutino che comunque ha fatto gol, Lind ha fatto gol, l'Orientè da capitano ha preso 14 L'Orientè non ha fatto gol, non ricordo se abbia fatto assist, non penso però Comunque da capitano il punteggio aumenta, quindi poi ha preso 14 Vediamo un po' a questo punto come diciamo siamo messi in classifica In totale siamo in questa classifica qui generale 340 su 858 Nella giornata singola la quindicesima 340, quindi proprio precisi e puntuali Mentre nello scontro diretto, che è sempre interessante da vedere Nella giornata 15 ho pareggiato perché ha fatto anche lui 144 punti È andata un po' male perché potevo beccare tantissima altra gente che ha fatto punteggi negativi O comunque non è arrivato a fare un gol Però vabbè alla fine un pareggio, sono undicesimo su 17 che non è bellissimo da vedere Però speriamo piano piano di scalare questa classifica Comunque io mi fermo e vi do appuntamento alla prossima Ciao a tutti!